166.370 abruzzesi, cioè il 13,1% della popolazione regionale, ha scelto di installare sul proprio device mobile l'app di tracciamento dei contatti immuni al fine di prevenire il contagio da covid-19. Una percentuale, quella abruzzese, che va ben oltre la media nazionale, ferma ad un abitante su 10. Infatti la nostra regione si piazza al terzo posto in Italia, dopo la provincia autonoma di Bolzano e l'Emilia-Romagna. Fino ad ora i dati aggiornati al 31 di agosto dicono che i download totali in Italia sono stati 5,4 milioni e immuni ha contribuito a bloccare sette focolai. L'app è stata creata per combattere le pandemie. Grazie anche alla funzionalità di contact tracing, quando un utente scopre di essere positivo al virus, immuni consente di allertare in modo anonimo le persone con cui è stato a stretto contatto e venendo informate tempestivamente, possono contattare il loro medico di medicina generale per approfondire il quadro clinico. L'obiettivo è quello di evitare di contagiare altri, contribuendo a ridurre la diffusione del coronavirus. L'app riesce a individuare un contatto a rischio senza sapere chi siano i due utenti o dove si siano incontrati. Non è in grado di tracciare gli spostamenti, ma si muove attraverso la tecnologia Bluetooth Low Energy e non raccoglie dati di geolocalizzazione di alcun genere, inclusi quelli del GPS. Dunque privacy tutelata, almeno sulla carta. I dati salvati sullo smartphone e le connessioni tra l'app e il server sono cifrati e vengono cancellati sul server quando non sono più necessari e in ogni caso prima del 31 dicembre prossimo. Per utilizzare immuni bisogna avere almeno 14 anni. Se si è nell'età compresa fra i 14 ai 18 anni, per usare l'app si deve avere il permesso di almeno uno dei genitori o di chi ne esercita la potestà. Nella malaugurata ipotesi ci sia un effettivo e reale problema di contagi, l'ASL di riferimento sottopone a uno o più tamponi l'utente per confermare che non sia stato positivo al covid-19. Quando lo stesso riceve la conferma di negatività dall'ASL può aggiornare lo stato di salute all'interno della app Immuni. Basta infatti toccare i tasti sei guarito e aggiornare il proprio stato.